La politica è stata ufficializzata alla candidatura a sindaco d'Ischia di Enzo Ferrandino, l'Eav ha istituito una borsa di studio in memoria di Vito Castagliolo, l'autista colto da malore mentre era alla guida dell'autobus. La vigna dei mille anni, se ne è parlato oggi pomeriggio alla biblioteca Antoniana di Ischia, c'è poi lo sport e il calcio con i provvedimenti del giudice sportivo per l'eccellenza. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra poco dopo la pubblicità. Un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di L'Acqua Meno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia, cucina tipiche ischitane e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo, per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia, emozioni uniche tra il cielo e il mare. Sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolordoppler, TAC multistrato, dentascan, MOC o zonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. La Conchiglia, nel centro di Forio. Collane, accessori, souvenir e tanto altro ancora. La Conchiglia ti propone un'attenta selezione di prodotti artigianali ischitani ed italiani. Vastissima produzione propria di collane, anelli e bigiotteria, in argento, corallo e pietre semi preziose. personalizziamo la tua collana, il tuo anello, rendendo i tuoi gioielli un prodotto unico e in piena sintonia con la tua persona. Approfitta del laboratorio in sede per riparare o aggiornare le tue collane. Invia Erasmo di Lustro dal 1973. La Conchiglia. Tuffati in un mare di colori e preziose fantasie. Trattati da re, ora puoi. Il jolly re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly re Ferdinando Spa. Trattati da re. Ischia, ufficializzata la candidatura a sindaco di Enzo Ferrandini. La coalizione Orizzonte Comune sarà composta da otto liste. Abbiamo tutte le carte in regola per affrontare la sfida dei prossimi cinque anni e il convento a caldo del candidato sindaco. Una borsa di studio in memoria di Vito Castagliuolo è stata istituita da Leav in memoria dell'autista morto mentre era alla guida dell'autobus e sarà assegnata agli studenti isolani. De Gregorio, puntiamo sui giovani. La viglia dei mille anni, una storia di successo. Al convegno organizzato dal Garden Club dell'Isola, Benedetto Migliaccio racconta la storia della tenuta, scelta come esempio di paesaggio terrazzato nell'Italia del mezzogiorno. Calcio, il giudice sportivo ferma la difesa del Real Forio, squalificati di Dato, Calise e Mora, nel Barano fermato per un turno a Camone. Le squadre torneranno in campo sabato 22 aprile dopo il telegiornale a bordo campo XL. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Partiamo con la politica. È stata ufficializzata la candidatura sindaco di Ischia di Enzo Ferrandino. L'accordo è stato firmato da Cristian Ferrandino, Antonio Piricelli, Giosi Ferrandino, Massimo Trofa, Otto Rino Mattera, Luigi Di Vaia, Luca Montagna, Antonio Buono, Paolo Ferrandino, Vincenzo Zabatta, Luca Spignese, Rosanna Ambrosino, Giovanni Sorrentino, Carmen Criscuolo, Pasqualino Migliaccio, Luigi Mollo. La coalizione Orizzonte Comune sarà composta da otto liste. Movimento Cristiano Lavoratori per Ischia, Solidali per Ischia, Ischia Democratica, Il Girasole, Ischia Prima di Tutto, Noi per Ischia, Ischia Sostenibile e Conenzo Sindaco. Il progetto politico programmatico denominato La Bella Ischia riguarderà dieci punti. Ambiente, territorio e sviluppo ecosostenibile. La salvaguardia del nostro mare anche mediante il completamento del sistema fognario. Particolare attenzione alle politiche per il sostegno alle fasce deboli e al settore sanitario, promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale, politiche giovanili e sport, razionalizzazione del settore trasporti e traffico, ulteriore riduzione della pressione fiscale, supporto alle iniziative condivise proposte dalle attività produttive ed imprenditoriali del territorio, iniziative inerenti al settore occupazionale anche alla luce dei nuovi provvedimenti che hanno interessato il lavoro stagionale ed ulteriore efficientamento della macchina amministrativa. Intanto, dopo l'annuncio ufficiale della sua candidatura a sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino ha commentato finalmente campagna elettorale. Finalmente la politica entra in quella fase veloce ed entusiasmante che getta le basi per la formazione dei processi democratici di scelta e che pone ogni cittadino nella posizione di essere il protagonista indiscusso delle decisioni future. E questa è l'occasione di Enzo Ferrandino in cui siamo tutti chiamati a dare risposte alle domande di quanti sentono il peso della responsabilità di dover lasciare in eredità ai propri figli e ai propri nipoti una società migliore sia da un punto di vista territoriale che strutturale. Abbiamo tutte le carte in regola per affrontare con piglio e decisione la sfida dei prossimi cinque anni e abbiamo un obiettivo comune da perseguire, realizzare la nostra bella Ischia. Dobbiamo riuscire ad emozionarci di nuovo della nostra terra, delle nostre origini e di quanto siamo chiamati ad amministrare insieme. La bella Ischia, dice Enzo Ferrandino, è la meravigliosa sfida che ci vedrà protagonisti insieme con gli amici di Orizzonte Comune e agli ischitani tutti nei prossimi cinque anni e che coinvolge le migliori risorse della nostra società. Una sfida che, ne sono certo, riuscirà a far emergere ancora di più i nostri tratti caratteristici. Abbiamo una bella identità, una storia millenaria da rivalutare ed un territorio da tutelare insieme. Una borsa di studio in memoria di Vito Castagliuolo, l'autista 56enne dell'EAV colto da Malore e morto mentre era alla guida dell'autobus, è stata istituita dall'azienda di trasporto per gli studenti isolani. Ne ha dato notizia il Presidente Umberto De Gregorio, presente stamani a Ischia, al Polifunzionale, al concorso Mobilità, Viabilità, Accoglienza e Termalismo. Quali proposte? Puntiamo molto sui giovani, abbiamo stanziato quattro borse di studio da 500 euro ciascuna, ha sottolineato De Gregorio. Sentiamo. L'EAV con le scuole. A Ischia questa mattina per questa iniziativa per parlare di turismo. Dottor De Gregorio. Beh, EAV deve iniziare a guardare avanti, quindi ai giovani al futuro. Il Presidente della Regione De Luca ha un obiettivo molto preciso, quello di dare un futuro ai giovani della Campania. Noi ci muoviamo esattamente in questo tracciato e quindi stare tra i giovani è un'occasione meravigliosa. L'obiettivo della nostra azione è portare ovviamente un miglioramento nel servizio, ma anche determinare le condizioni perché sia possibile tornare ad assumere. Ed è per questo che noi non possiamo consentire alcuna forma di lassismo, di assenteismo e di attività che forse un tempo venivano tollerate, ma oggi non è più possibile tollerare per rispetto a questi ragazzi che sono qui dentro. Questa iniziativa di stamani però EAV vuole ricordare uno degli uomini migliori che ci ha lasciato in anticipo rispetto al percorso normale, Vito Castagliolo, un autista che ha avuto la prontezza di accostare l'autobus, di scendere, di chiamare soccorso. Ed EAV questa mattina lo ricorda come? Lo ricordiamo come una persona attaccata al suo lavoro, una persona normale, una persona semplice, senza retorica, ma una persona come debbono essere i lavoratori di EAV. Lo ricordiamo istituendo una borsa di studio, quattro premi da 500 euro per tre anni, il primo con scadenza delle domande al 30 giugno, rivolto appunto ai giovani, alle quattro scuole che qui sono riunite. Il tema è esattamente il lavoro, diritti e doveri di un lavoratore. Al concorso di stamani organizzato dal coordinamento per la mobilità dell'isola d'Ischia, i vari istituti dell'isola hanno partecipato presentando dei video con i quali hanno sottolineato anche le criticità del nostro territorio. Soddisfatto il portavoce del coordinamento, Salvatore Sodano, sentiamolo. Quale mobilità sostenibile per la nostra isola? Un concorso che ha coinvolto tutti gli studenti del nostro territorio, quindi questa mattina è il momento di premiazione. Salvatore Sodano, come è andata? Io penso che sia andata abbastanza bene, se non benissimo, contenti i ragazzi molto coinvolti, molto coinvolto anche il presidente dell'Eav e l'ingegnere Vignola che hanno appunto dedicato quattro borse di studio a Vito Castaiolo, in memoria di Vito che ha dedicato la sua vita al lavoro con la dedizione giusta e l'appartenenza giusta alla società. Ma quello che è stato bello è vedere i lavori dei ragazzi, forse qualche tema non era proprio centrato ma è andata bene lo stesso perché i ragazzi sono stati così bravi, meglio di noi, ne abbiamo parlato un po' in queste ore con gli altri del coordinamento, ad evidenziare le bellezze dell'isola e poi a far trasparire quelle carenze che ci sono, a dire che se qua le possiamo migliorare, noi siamo qua e ora tocca a voi. Infatti il premio che ha vinto, la scuola Mediascotti chiude proprio tutte le interviste molto mirate, centrate, senza fare polemica, senza avere discussione, anzi cercando di chiedere consigli anche alle persone di quello che c'era di positivo, di quello che c'era di negativo e poi finisce con una pensilina fuori la scuola media dove dicono ci manca la pensilina, ora tocca a voi. Quindi alle amministrazioni principalmente di farsi carico di quest'altro neo che è quello del reddamento urbano del territorio che serve anche ai ragazzi ma soprattutto anche ai turisti. Quindi è stata una mattinata molto diciamo coesa e io quello che ho detto e penso che sia andata così, non ha vinto nessuno, abbiamo vinto tutti, ha vinto l'unità di intento, ha vinto l'unità delle scuole, ha vinto l'unità delle amministrazioni. Infatti abbiamo sempre detto e stiamo dicendo uniti si vince e dobbiamo continuare in questa direzione e ci auguriamo che per l'anno prossimo con le scuole riusciremo ad andare ancora un segnale più forte e come ho detto in quell'aneddoto all'interno della trasmissione è bello sentire i turisti che vanno fuori e dicono sembrava di stare in Germania. No, dobbiamo dire siamo stati ad Ischia, prendiamo Ischia come esempio, non la Germania o la Svizzera o altri paesi. Possiamo farlo, abbiamo le potenzialità, abbiamo dei giovani capaci che hanno fatto degli interventi veramente importanti e veramente significativi, forse molto meglio di noi adulti e molto meglio anche, devo dire, degli amministratori oppure di tutti gli altri che erano presenti. Intanto però adesso ci si misura sul campo e quindi ci sono queste prove tecniche di accoglienza. Sì, siamo già pronti, infatti avevo fatto vedere poco fa, abbiamo preparato le indicazioni per fare gli infopoint, avremo due infopoint a Ischia, uno nella stazione marittima di Ischia, l'altro nella stazione dei Pullman, uno a Forio e uno a Casamicciola. Questo per fare tre giorni di prova, come abbiamo detto nei giorni scorsi, per poi partire con l'alternanza scuola-lavoro dove i presidi hanno firmato l'accordo stamattina con il dottor De Gregorio. Quindi per iniziare per un contratto di tre anni, per cui per tre anni noi avremo i nostri giovani sul territorio a dare informazioni, ma più che altro a fare ricerca, informazione e come migliorare la mobilità e l'accoglienza per i turisti. Sanità in Campania non è stato ancora nominato il commissario. Il 3 aprile, data delle dimissioni di Polimeni, è ormai lontano, ma il ministro Lorenzin ancora non ha nominato il suo successore e questo conferma che è in enorme difficoltà perché è consapevole del fallimento del commissariato esterno e delle difficoltà a non rispettare la legge che le impone la nomina di De Luca che lei per ragioni politiche non vuole firmare. Lo ha detto il consigliere regionale De Verdi Francesco Borrelli, componente della Commissione Sanità, per il quale questi ritardi confermano che al ministro Lorenzin non interessa il diritto dei campani ad avere un servizio sanitario degno di questo nome, ma solo mantenere gli equilibri politici del suo partito. Ischia verso le elezioni amministrative di giugno, i problemi sono tanti, c'è tanto lavoro da fare. Il commento di professor Michele Darco, ex amministratore, per questo c'è bisogno di tanta buona volontà. Tra i primi problemi da risolvere è quello del traffico nel centro cittadino. Sentiamo. Ischia verso le elezioni amministrative del prossimo mese di giugno. Michele Darco, allora due grosse coalizioni che si contenderanno il primato? Sì, sono due coalizioni alla cui testa ci stanno due giovani, ai quali io non posso fare altro che augurare buon lavoro perché ce n'è tanto da fare. L'isola che non c'è purtroppo peggiora sempre e allora c'è bisogno di darsi da fare, di mettercela tutta, di inventare le cose. Il paese ha difficoltà in troppi campi, per cui è un lavoro improbo. Io dicevo prima nel dibattito che se riuscissero anche solamente a fare l'ordinaria amministrazione già avrebbero fatto qualcosa di importante. Però i problemi scottano, i problemi sono attuali e sono antichi purtroppo, che vengono da perlomeno 20 anni a questa parte e quindi c'è bisogno di darsi da fare, di creare i rapporti con gli enti superiori, regione, governo eccetera, perché l'isola è in un momento di transizione negativo. C'è bisogno, i giovani specialmente sono costretti a fare la valigia, siamo tornati all'epoca anteguerra, quando chi voleva lavorare doveva prendere il piroscafo e andarsene a New York o da qualche altra parte. Quindi è un momento difficile. Ai ragazzi che andranno a costituire la nuova amministrazione non posso che augurare in bocca al lupo di gran cuore. Tra l'altro, lo dicevamo, i problemi sono tanti, riguardano comunque sempre la mobilità, la viabilità, comunque un discorso che riguarda tutto il turismo che è la nostra principale attività, no? Esattamente, la viabilità e il traffico sono due dei problemi che scottano in maniera decisiva. Io vedo i turisti che non riescono a capirci più niente, siamo invasi dalle nostre automobili che praticamente rendono impossibile la vita a tutti, specialmente ai turisti. Noi abbiamo un turismo low cost, per cui non possono lamentarsi troppo, però anche questi si stanno scocciando. Quindi se non si fa qualcosa, noi l'abbiamo impostato addirittura negli anni Ottanta, questo problema. Già da allora avevamo capito che si andava nella direzione sbagliata, anche perché avevamo fatto delle politiche di urbanizzazione non consone a quello che era il nostro territorio, l'isola d'Ischia. E ora scontiamo quegli errori di allora. Quindi c'è bisogno di darsi da fare. Navette, io direi di fare una grande isola pedonale che parta dal palazzetto dello sport e arrivi fino a piazza Trieste. Amministrative nel comune di Ischia. Domani sabato alle 11 presso il Barcalise di Ischia la coalizione che ha unitamente designato Gianluca Trani come candidato sindaco in vista della prossima tornata elettorale del 11 giugno terrà una conferenza stampa per illustrare ai media le principali linee programmatiche che caratterizzeranno l'attività politico-amministrativa dei prossimi cinque anni. A Ischia scatta da oggi la disciplina di accesso alla zona traffico limitato. Sulla via Porto Riva Destra il divieto di transito scatta dalle 8 alle 4 del mattino. Su Via Rome il corso Vittoria Colonna e relative attraverse il divieto va dalle 10.30 alle 13 e dalle 17 alle 6. A Ischia Ponte il divieto di transito va dalle 10.30 alle 13 e dalle 17 alle 21. Forio il Presidente Michele Regine ha convocato il Consiglio Comunale per giovedì 13 aprile alle ore 9 ben 86 punti all'ordine del giorno molti dei quali presentati dai consiglieri di opposizione. L'elenco si apre con l'approvazione del bilancio di previsione 2017 e di quello pluriennale 2017-2019 seguono l'approvazione del regolamento di contabilità armonizzata e quello per l'occupazione del suolo pubblico. Ci sono poi diversi riconoscimenti di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del Tribunale o del Giudice di Pace e quindi gli argomenti proposti dalle opposizioni. Si è tenuta oggi pomeriggio verso la biblioteca Antoniana Dischia la conferenza La vigna dei mille anni, i personaggi, la storia e il lavoro degli uomini a cura dell'avvocato Benedetto Migliaccio. L'evento organizzato dal Garden Club Dischia. Vediamo le interviste con la Presidente del Garden Club Nunzia Sena e dell'avvocato Migliaccio che è proprietario proprio della vigna dei mille anni. Sentiamo. L'anno scorso abbiamo avuto il piacere e tutti gli amici del Garden, i soci, di conoscere un lato della nostra isola splendida che ignoravamo, la vigna appunto dei mille anni dell'avvocato Migliaccio. È stata una sorpresa meravigliosa questi terreni che scendono verso il mare, verso Vascura. E quindi abbiamo passato una giornata stupenda e soprattutto arricchita dalle spiegazioni che ci dava l'avvocato sulla storia di questa vigna e sulle prospettive anche future perché è una vigna che è stata recuperata e siccome noi curiamo proprio l'ambiente, la cura del verde, ci è sembrato opportuno oggi averlo qui con noi, farci dire quanto più cose possibile. Avvocato, noi l'abbiamo vista un po' crescere, nascere la vigna. È vero, è vero e mi avete sempre accompagnato quindi postate bene perché devo dire che al di là delle aspettative mi rendo conto che i racconti, i racconti del territorio, i racconti di questa meravigliosa isola, la cultura che viene fuori da quest'operazione di recupero affascina. Il successo più prestigioso è stato quello che abbiamo avuto in occasione del convegno dell'alleanza mondiale sui paesaggi tesazzati. Loro sede nel Veneto, sede in una delle più prestigiose ville venete, 18 siti in Italia, solo tre nel mezzogiorno, Amalfi, Ischia e Pantelleria e abbiamo avuto la pregevole sorpresa che quale regalo, quale omaggio alla Spagna che è il prossimo paese ospitante, per raccontare i paesaggi tesazzati italiani è stata scelta la veglia dei mille anni. Non che mancassero i vini, perché chiaramente quando parliamo di tesazze parliamo di paesaggi vitivinicoli, non che mancassero le regioni competitive, il Veneto, il Friuli, il Piemonte, la Toscana. E quel che abbiamo visto è che cosa ha colpito di più, soprattutto giapponesi, americani, australiani, gli stranieri, è proprio questo meraviglioso, questo meraviglioso racconto, lo storytelling, questa alba della cultura greca che è nata da noi e che purtroppo gli altri non hanno. Giovedì 20 aprile alle 18.30 alla Biblioteca Antoniana Disca ci sarà la presentazione del libro di Rinaldo Mattera, Grillo dorme dall'Italia videocratica all'impero del click. Rinaldo Mattera è il ricercatore presso l'Unità di ricerca sulle topografie sociali e il cultore della materia presso l'Università Sorosola bene in casa. Sentiamo. Si intitola Grillo Drom, il libro di Rinaldo Mattera che verrà presentato presso la Biblioteca Antoniana Disca il 20 aprile. Abbiamo qui l'autore che ci parla un po' della presentazione ma anche di che cosa parla il libro, soprattutto incuriosisce questo titolo che fa insomma il verso un famoso film. Sì, allora la presentazione si terrà all'Antoniana 20 aprile 18.30 e saranno presenti oltre a me il professor Antonello Petrillo che è un sociologo coordinatore del gruppo di ricerca URIT, il professor Gianfranco Marelli che ha scritto una splendida postfazione e poi Alessandro De Cesaris che è un dottorando in filosofia che ha scritto la prefazione quindi il libro è decisamente made in ischia. Il titolo oltre a richiamare il famosissimo film di David Cronenberg Videodrome fa un po' ecco il verso a tutta questa cultura pop della insomma dei film delle serie tv però in realtà poi va un po' più a fondo e tratta un argomento piuttosto serio che è la politica di questi giorni. Quarta di copertina io sostanzialmente parto dal 1978 anno in cui Beppe Grillo conquistò le platee italiane, condusse il festival di Sanremo, andò sulla prima pagina di tv sorrisi e canzoni. Già questo dimostra un po' che il fenomeno di Beppe Grillo non è proprio recente e si lega chiaramente a Berlusconi perché sul fine degli anni settanta e in particolare durante gli anni ottanta poi con l'esplosione della tv commerciale e del marketing politico inizia tutta una serie di propaganda, di persuasione appunto tramite il sistema dei media e poi arriviamo ai tempi nostri più recenti nel quale praticamente blog, facebook, forum, negli ultimi tempi soprattutto facebook, tant'è che sempre facendo il verso un po' al film videodrome potremmo dire che oggi facebook è la realtà e la realtà è meno di facebook. Questa è la mia prima monografia scientifica e io mi definisco un informatico sociale quindi sto sostanzialmente a cavallo di varie discipline diciamo la sociologia dei processi culturali e comunicativi, la sociologia nei media, la mass mediologia e con un taglio ecco principalmente informatico quindi relativo alle grandi trasformazioni che stanno avvenendo nella società contemporanea attraverso appunto il computer, gli smartphone, i tablet e di conseguenza i processi di partecipazione politica come la cyberdemocrazia. Io al Sororsola sono assistente del professor Iorio in social media marketing e comunicazione innovazione digitale. Con il professor Pedrillo invece mi occupo più specificamente di sociologia generale e lì cerchiamo di declinare la sociologia con un approccio come dire molto sul campo, cerchiamo di far parlare le persone. Tant'è vero che nel mio libro c'è un capitolo specifico che parla del meetup isolano, il meetup degli attivisti cinque stelle isolano è stato uno di quelli che alcuni anni fa uscì fuori dal cinque stelle e spero che appunto quando faremo varie presentazioni si riuscirà anche un po' a catalizzare l'attenzione degli esclusi e in generale di coloro che hanno avuto rapporti con il movimento cinque stelle ma che per una ragione o per un'altra ne sono stati cacciati o esclusi o per volontà loro come nel caso degli schitani. L'impianto del microchip nei nostri amici a quattro zampe è obbligatorio dal 2005 così come l'iscrizione all'anagrafe canina della regione di residenza. Molti tutt'ora ritengono erroneamente che si tratti di una libera scelta del padrone, altri non ne capiscono l'utilità, altri ancora temono le conseguenze. Per fare chiarezza ne abbiamo parlato col dottor Mariani, sentiamo. Oggi vogliamo parlare dell'importanza del microchip per il cane e ne parliamo con il dottor Mario Mariani che ci spiega perché soprattutto è un dovere microchipare l'animale. È un dovere perché secondo la legge 193 regionale che poi però è una legge diciamo nazionale che poi ogni regione ha modificato secondo le proprie esigenze però comunque c'è questa legge che dice che il cane va ha identificato con l'applicazione del microchip. Dobbiamo ricordarci però che dal 1950 vige l'obbligo da parte del proprietario di denunciare il cane. Era appunto la vecchia medaglietta che però poteva cadere, poteva perdersi. Poi c'è stato il tatuaggio che tante storie ha sollevato perché era doloroso. Alla fine si è riusciti a fare una cosa assolutamente indolore che poi al contrario del tatuaggio non è indelebile quindi diciamo rimane per tutta la vita del cane e che dà come una targa l'identificazione dell'animale. Questo è un fatto positivo e negativo. Positivo come per l'auto appunto quando ci si vuole ritrovare il cane di propria proprietà, se si perde, se si scappa. È negativo quando questo cane diciamo si vuole abbandonare, si vuole diciamo non tenerlo più o se questo cane fa dei danni a terzi. In questo caso naturalmente il CIP può essere deleterio per il proprietario perché appunto dimostra che il cane è il suo e deve avere le sue responsabilità. Però in generale il CIP è nato come prevenzione del randaggismo cioè proprio per evitare che l'animale anche nel momento in cui si fosse perduto in maniera casuale, in maniera diciamo occasionale, non possa più trovare il padrone e quindi diventare randaggio. In questa maniera praticamente è diventato impossibile questo perché il cane si può ritrovare addirittura in tutta l'Europa, non solo in Italia. Siamo alla pagina sportiva. Nel tardo pomeriggio di oggi sono state comunicate le decisioni del giudice sportivo dopo il turno infrasettimanale dei campionati di eccellenza e promozione che si sono disputati lo scorso mercoledì. Gravi perdite per il Forio, costretti ad andare in quel di Portici dopo la sosta praticamente senza la difesa. Infatti sono stati squalificati per recidiva in ammunizione di Dato, Calise e Mora. In Pagliazzo dunque dovrà letteralmente inventarsi una nuova difesa. Per il Barano fermato sempre per un turno Chicco Arcamone. Nessuna squalifica per Procida e Nuova Ischia. La notizia era nell'area e in effetti manca ancora l'ufficialità della Nuova Ischia che nulla ha fatto ancora sapere in merito. Sembra però ormai certo l'addio di Raffaele Capuano e Salvatore Varchetta alla Maglia Gelloblè. I due proprio non hanno trovato spazio nelle gerarchie di Isidoro Di Meglio. Probabilmente per questo motivo hanno deciso di fare un passo indietro. Sembrerebbe che sia Capuano che Varchetta non si stiano più allenando con la squadra da qualche settimana e il loro addio si andrebbe ad aggiungere a quello di giovane stile, doveroso utilizzare il condizionale in attesa di ricevere comunicazioni ufficiali. Al trofeo delle regioni 2017 Ischia c'è. Con la rappresentativa della Juniores scenderanno in campo Gabriele Sirabella del Barano e Massimo De Luise del Real Forio oltre a Fabio del Prete del Procida. Un po' di Ischia anche nella rappresentativa allievi con il giovane classe 2000 Giovanni Filosa della Nuova Ischia. La manifestazione si svolgerà in Trentino Alto Adige. da domani sabato fino a venerdì prossimo 14 aprile. La Juniores sarà allenata da Corrado Sorrentino. Gli allievi invece saranno guidati da Valerio Gazzaneo. Si riscatta nel migliore dei modi la futura volley l'Acquameno Under 18. Dopo la pessima prestazione vista in semifinale le ragazze di Manuela Desiano si sono subito rialzate superando nettamente il centro esterno e la finale provinciale valida per il terzo e quarto posto. 3-0 il risultato finale della gara giocatasi nel pomeriggio al Caravita di Cercola. A giocarsi il titolo provinciale in queste ore sono le due squadre dell'Arzano Volley. E ritorna questa sera subito dopo il telegiornale l'appuntamento sportivo del venerdì con Bordocampo XL. La trasmissione condotta da Vincenzo Agnese questa sera sarà interamente dedicata al calcio e in particolare al convento del turno infrasettimanale di eccellenza e promozione. Si parlerà della salvezza matematica ottenuta da Real Forio e Barano e del cammino verso i play-off di Procida e Nuova Ischia. Saranno in studio il dirigente del Real Forio avvocato Giuseppe Di Maio, i calciatori del Barano Chico Arcamone e Luca Simone ed infine il tifoso ischitano Ciro Curci. Inoltre intervenranno telefonicamente gli allenatori delle squadre isolane Monti, Mandragora e Di Meglio. Sarà possibile seguire la trasmissione come sempre dopo il telegiornale sia sul canale di Tere Ischia del Digitale Terrestre che in streaming sul sito di Tere Ischia. Gli appuntamenti domattina sabato alle 10 nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Mattei di Casamicciola la sezione di Arzano Ischia e Procida dell'Unione per la lotta alla distrofia muscolare ha organizzato un convegno sulla genetica di nuova generazione per la lotta alle distrofie muscolari. Seguirà alle 11.30 la seconda edizione di Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche organizzata dal gruppo Io sono Filippo. Cosa si nasconde dietro un'aggressione mortale a una donna o meglio quali sono i segni che possono far trapelare una personalità violenta incline all'aggressione? In questo scenario la grafologia può essere fondamentale e svelare i sintomi di quello che potrebbe accadere. Non è amore, femminicidio e violenza di genere il tema del convegno che si terrà domani pomeriggio sabato dalle 15.30 all'hotel Delfini di Ischia. Il saluto sarà portato dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e Armando Rossi. Sara Cordella, grafologa forense, presidente della Scuola Veneta di Grafologia, analizzerà il legame mortale che si crea tra vittime e carnefice raccontato proprio attraverso la grafia ed analizzerà alcuni tra i recenti casi di cronaca. Interverranno tra l'altro il giudice Alberto Capuano, Virginia Ceravolo psicocriminologa, Leandro Abel docente di sociologia, Antonio De Girolamo avvocato penalista. Il convegno è organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, dall'Associazione Forense Isolana, dalla Scuola Veneta di Grafologia e dall'Associazione Mai Più Violenza Infinita. La lunga stagione concertistica di musica da camera della Fondazione Walton prosegue sabato e domenica con l'esibizione del duo Loi Pinna, Flauto e Pianoforte. Alla Mortella il duo proporrà un doppio concerto alle 17 nella sala recite proprio nel cuore della Mortella. E l'8 e il 9 aprile presso i giardini Ravino di Forio si svolgerà la decima edizione del convegno Meristema, una manifestazione in cui studiosi di diverse discipline illustrano e dibattono le loro tesi incentrate a vario titolo sui temi della natura e dell'ambiente. Ed ora spazio al meteo, come sempre vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, soleggiato, ma con poche nubi sparsi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Bene, chiudiamo questa edizione del telegiornale. Vi lascio quindi a Vincenzo Agnesi alla trasmissione sportiva del venerdì a Bordocampo XL e noi ci vediamo, come sempre, all'edizione delle 14. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS